Cucinare a casa è qualcosa di assolutamente diverso rispetto a portare la propria cucina a tre confine tant'è che qui non siamo tanto per fare la nostra cucina, ma per fare una cucina di tutto l'estivale da nord fino a sud ce la metteremo in due giorni, abbiamo dimostrato di essere un po' affiatato e cercheremo di fare tutto ciò di meglio che si possa fare per poter rappresentare i nostri paesi Grazie